gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia ci sarebbero secondo le notizie code di persone ai supermercati per fare la scorta realmente la scorta non serve perché i supermercati rimangono aperti problemi di rifornimenti alimentari non ce ne sono quindi la fila i supermercati per la scorta risulta più di un acquisto da panico che però non è giustificato perché anche se ci sarà un coprifuoco il supermercato rimane sempre aperto anche nel buio della strada ci sarà sempre la luce col supermercato aperto sto ricevendo in questi giorni e anche in queste ore notizie di code e assembramenti dice la bella nova capodelegazione di italia viva ministro dell'agricoltura dice ricevo in questi giorni anche in queste ore code e assembramenti nei negozi di alimentare per timore di un nuovo lockdown e di problemi negli approvvigiammenti di cibo sottolinea il ministro per le politiche agricole alimentari e forestali teresa bellanova voglio tranquillizzare tutti dice il ministro la filiera agroalimentare è assolutamente in grado di garantire come in tutti questi mesi cibo sano e sicuro al paese invito tutti ad acquistare il necessario perché non si ingenerino code e assembramenti che rappresentano un rischio per lavoratori e consumatori perché non si sprechi cibo ovviamente quando uno compra delle grandi quantità poi una gran parte finisce nel cestino della spazzatura e intanto intanto il pregliasco dice stavolta stavolta è peggio della prima è facilissimo contagiarsi dice in questo momento davvero c'è una diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e non dico omogenea ma davvero molto ampia e peggiore della prima volta lo vedo nel contesto in cui vivo e lavoro tra i familiari e gli amici la probabilità di cadere nell'infezione è generalizzata dice così il virologo dell'università degli studi di milano fabrizio pregliasco intervenendo ad agorà su rai 3 fa il punto dell'epidemia di covid 19 in alcune aree d'italia nello specifico in quella milanese l'elemento particolare è la pervasività di questo virus ammonisce l'esperto direttore sanitario del IRCCS Galeazzi di Milano è facilissimo acquisirlo magari sul lavoro in un contesto comunitario ma poi l'arrivo è a casa avverte pregliasco che la famiglia diventa un elemento moltiplicatore proprio perché si abbassano per forza di cose le difese invece bisogna stare molto attenti raccomanda è a fronte della presenza di soggetti asintomatici ma vediamo altre notizie che arrivano in questi minuti zaia parla di un possibile picco a metà novembre locatelli dice stiamo facendo di tutto per garantire un natale sereno si sta facendo più di tutto per garantire all'italia un natale più sereno ma non ho la sfera di cristallo per dire come sarà dice locatelli presidente del consiglio superiore di sanità css e componente del comitato tecnico scientifico che fa il punto della situazione con l'adn cronos sulla salute alla vigilia del nuovo dpcm con ulteriori restrizioni per ridurre i casi di covid 19 la pandemia ha anche rallentato la lotta all'epidemia all'epatite c la pandemia ha reso più complicata la lotta all'epatite c mettendo in forza l'obiettivo di eliminarla dall'italia entro il 2030 grazie ai nuovi farmaci antivirali molte persone non hanno potuto accedere alla terapia e tante non sospettano di avere l'infezione lo segnala lo studio coordinato di massimo massimo galli dell'università statale di milano condotto in alcune località lombarde per capire la diffusione degli anticorpi al sars cov 2 mentre gli anestesisti dicono che mancano medici specialisti serve assumere gli specializzanti assumere subito specializzanti anestesisti per far fronte alla recrudescenza della pandemia da covid 19 e alle ben note carenze di medici anestesisti rianimatori dell'emergenza urgenza e quanto chiede a roi emac che riunisce gli anestesisti rianimatori ospedali italiani emergenza area critica alle asle e agli enti del ssn affinché si procede immediatamente all'assunzione di medici in formazione degli ultimi due anni in queste discipline per garantire la tutela della salute pubblica nel miglior modo possibile nella situazione di grave emergenza attuale provvedibile prevedibilmente e anche futura ma luca zaia poi interviene dice comunque le sanzioni le sanzioni a medici che non fanno i tamponi sono già previste dal dalla legge e aggiunge così che i medici di base che non effettueranno tamponi verranno sanzionati perché lo prevede la legge non perché lo dice la regione veneto l'ho sottolineato il presidente del veneto luca zaia commentando le misure previste dall'ordinanza regionale che recepisce l'accordo nazionale in materia abbiamo già 650 medici ha proseguito che volontariamente gratuitamente hanno scelto in tempi non sospetti di fare il tampone è stato modificato il contratto nazionale con il ministro quindi la firma di quel contratto di pediatri e medici vale erga omnes chiunque si assume l'obbligo di farlo nessuno ha offeso i medici di base se è l'esa maestà dire che il contratto prevede l'obbligo me lo vengano a dire siamo l'unica regione che ha fatto tutto la procedura ringrazio poi i medici di base che sono venuti al tavolo e hanno firmato il contratto nazionale ogni settimana dirò quanti hanno fatto i tamponi ha concluso e poi ognuno si regoli intanto il presidente del consiglio in parlamento dice che la curva dei contagi impone nuove misure quindi il presidente del consiglio giuseppe conte interviene alla camera dei deputati dice che la curva dei contagi di sabato ha in imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre ha detto il premier dopo un'ulteriore interlocuzione con i presidenti delle camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento l'obiettivo del governo è quello di rimanere consapevole della piena responsabilità di fronte al paese di ogni decisione per la salvezza dello stesso le proposte di conte al parlamento vanno nella direzione di mettere il coprifuoco alle 21 stabilire la chiusura dei centri commerciali nel weekend e nel limitare la capienza del trasporto pubblico al 50 per cento io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale descrizione gratuita siamo anche in facebook in instagram e anche nell'altro canale di youtube che si chiama tele italia seconda rete grazie nuovamente per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti